Da oggi zona arancione, almeno fino a mercoledì 30 dicembre. Per alcuni commercianti si ricomincia quindi a respirare un poco d'aria, almeno per quelli al dettaglio dei centri commerciali. Ma chi continua a soffrire restano sempre i titolari di bar e ristoranti. Per loro non è cambiato nulla. Il passaggio di oggi da zona rossa ad arancione non ha assortito alcun effetto. Si resta a braccia concerte e si tenta di rimediare con l'asporto. Soprattutto pizzerie e pasticcerie che tentano di promuoversi online continuando a offrire un minimo di servizio ai propri clienti. Comunque sia non sarà mai la stessa cosa. In molti hanno già ridotto sia personale che ore di attività. Danni per decine di migliaia di euro in pochi giorni che i pubblici esercizi e il settore della ristorazione stanno cercando di limitare appunto con l'asporto. Ma è solo un tentativo di coprire una voragine con una pezza. Pagheremo un costo salatissimo per quanto sta accadendo, afferma Confcommercio Ragusa, dopo aver raccolto le preoccupazioni degli associati e le lamentele degli aderenti a FIPE. Bisogna mantenere la guardia alta nei confronti dell'epidemia continua Confcommercio, ma ritardi ed errori pesano tanto e hanno contribuito a trasformare l'emergenza sanitaria in emergenza economica e sociale. Perché la soluzione di ultima istanza delle più chiusure innesca il rischio di chiusura definitiva per decine di imprese anche nella nostra provincia e il rischio della disoccupazione per centinaia di addetti. I pubblici esercizi e la ristorazione in questi ultimi giorni hanno dovuto fare i conti con cali di fatturato che hanno aggravato la condizione complessiva del 2020. Ripartire e riaprire secondo l'associazione dei commercianti deve essere questo l'obiettivo e deve essere questo l'impegno condiviso e soprattutto è indispensabile mettere in campo indenizzi adeguate e tempestivi e moratori fiscali e creditizie ampie e inclusive. Nessuno sia lasciato senza risposte e senza aiuto.